Buongiorno! Buongiorno! Eccolo! 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 Non cammini! Ti piangi? Sei commosso! Eccolo eh! Guardalo quanto è commosso! E non mi è niente? Non sei contento? Sto attento per tutti i minuti! No! Non mi è niente! Eccolo! Eccolo! Guarda quanto è contento il coccodrillo! Eccolo! Oh! Anche la signora coconfiocca! Eccolo! Tutto un pianto stamattina! Eccolo! 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 no questi no ma perché non mi fai arrabbiare vattene che ora sta calmo sta calmo sta calmo mi piace questo taschino chissà sì il taschino ti piace il taschino no salute vai 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 sto a fare salute salutello attenzione sembrava una giornata di agosto abbastanza calda ma si è riannuvolato e sta nevicando la sta facendo dappertutto su tutte le cime dell'appennino delle alpi delle dolomiti ma anche nel me sono puntata anch'io attenzione nevicato incredibile sta nevicando riaprono tutte le scritte seggio vile ovvio riapro tutto le piste rosse piste nere piste bianche piste tutti colori le piste riapro tutto nevicato nevicato ha nevicato ma guarda quanto ha nevicato dai i chilometri gli ho fatti quantifica un attimo quanto mancava da una c'è uno stoppio basta che te levi di coglione eh ma stupio ma donna mia mi sto vicino a te ma tu già cominciati qui con questi cappelli intorno al muro avete chiesto del gattino eccolo sta crescendo bene lo stiamo nutriendo ecco ancora non sappiamo come chiamarlo però non mi piace a sto gatto come si chiama il gattino no ma non ne so dai il nomicino dai il gattino piccolo dai fallo chiamolo un pochino ah che seppia come lo vuoi chiamare pennello lo vuoi chiamare ma devo giù basso no le minacce no quanto ti sono mancato da 1,575 a 100.000 34 milioni di euro quanto ti sono mancato da 1 a 150.000 milioni di euro si 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 guarda quanto ti sono mancato eh tanto quanto tipo quantificano perché io lo voglio giù basso le minacce no eh me ne è tonta la macchina è stato lì dentro chiuso proprio eh chiuso dentro la macchina senza uscire bello ci venga anch'io perché l'altro io sono sceso andiamoci eccola eh nonna maria che stai fai a vedere quanto lievito le mie non sono la mia vai ma questi se giro le rompe che a queste sono ma dove si ha eh un bestempo eh no 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 se sei ingrassato mi pare un piccione ripieno è un piano piano metà settembre me li metto giù